In questo video dedicato alla Flipped Classroom, ma non solo, vedremo come poter comunicare agli studenti non semplicemente il link ad un video, ma il link a una specifica parte di un video, a dei minuti specifici. Se infatti noi utilizziamo le numerose risorse che sono presenti su YouTube, qui sto visualizzando per esempio l'Enciclopedia Multimediale delle Scienze Filosofiche e una serie di conferenze e interviste su Giordano Bruno, notiamo che spesso queste hanno una lunghezza rilevante, per esempio in questo caso 27 minuti, o aprendone un'altra, ancora più corposa, di Nuccio Ordine, tra l'altro molto interessante, su Giordano Bruno, vediamo che questa è di 1 ora e 23 minuti, come molto spesso accade per le conferenze. Oppure questo può accadere per esempio per le opere teatrali. Ci sono delle opere teatrali integrali su YouTube e magari abbiamo necessità ai ragazzi di dare solo una sezione piccola di video. Naturalmente possiamo comunicarlo a voce, oppure utilizzare una serie di strumenti che vediamo oggi. Per esempio, questa è la prima, tubechop.com. La grafica del sito è minimale e consente di fare una sola cosa ma molto bene. Prendiamo il nostro video, in questo caso proprio il video di Nuccio Ordine su Giordano Bruno, copiamo il link, andiamo su Tube Chop e lo incolliamo. A quel punto clicchiamo Cerca e come vedete nella parte bassa, il video nel frattempo partirà, ma noi lo stoppiamo, nella parte bassa c'è uno slider che in maniera molto intuitiva ci chiede da quando vogliamo far partire il nostro video e fin dove vogliamo farlo vedere. Muoviamo il primo slider che è l'inizio, poniamo di farlo partire al minuto 3051 e muoviamo l'altra slider al minuto 41.12. A quel punto qui, opzionalmente, si può scrivere qualcosa, magari può essere anche un'indicazione didattica, che so, effettuare il riassunto, appuntarsi i nomi, tutta una serie di indicazioni. A quel punto tagliamo ed ecco qua che il sito avrà per noi tagliato in qualche modo il video. Qui embed code, questo è molto interessante, è il codice con cui possiamo integrare in un nostro blog, per esempio, questa specifica parte, quindi non l'intera conferenza. Il link, e questo è l'aspetto più importante, perché noi daremo ai ragazzi direttamente questo link, non l'intera conferenza. Questo link che viene generato, ed è univoco, farà riferimento alla parte tagliata. Ci sono poi eventuali forme di condivisione, tra le più note Reddit, Twitter, Facebook, Mail e altre. Ci sono poi i dettagli del taglio, che è questa parte in fucsia che indica che abbiamo tagliato una parte quasi a metà, e poi ci sono altri riferimenti che a noi interessano poco. Ecco dunque che in questo caso noi daremo ai ragazzi direttamente questo link, non quindi il link, eccolo qui, originale di YouTube. Un sito che effettua la stessa operazione è youtubetime.com, tuttavia è meno potente del precedente, di Tube Chop. Quando andiamo su youtubetime.com ci troviamo anche qui di fronte all'interfaccia minimale. Anche qui noi inseriamo il nostro link, quindi lo andiamo a prelevare da YouTube, torniamo nel nostro sito, lo inseriamo. Qui non c'è uno slider, c'è semplicemente un inserimento manuale. Questo sito prevede però solo la possibilità di inserire lo start del video, quindi non alla fine. Possiamo dire quindi di iniziare il video al minuto, che so, 30 e 40 secondi. Possiamo avere una preview, ma naturalmente ci immaginiamo cosa possa darci. A quel punto otteniamo il link. Ecco qui, il link è ottenuto. Non a caso se si va a vedere bene il link in questa parte vedremo che c'è proprio l'indicazione di 30 minuti e 40 secondi. Se noi infatti prendiamo questo link e apriamo una nuova scheda e lo incolliamo, ci troviamo proprio sempre nel video di YouTube dal minuto che abbiamo scelto. Tra le due soluzioni Tube Chop è probabilmente preferibile perché quando inseriamo quel link, ci troviamo di nuovo, ecco qui, noi ci ritroviamo direttamente dentro il sito, quindi non ci troviamo dentro YouTube. La qualcosa è particolarmente utile a mio avviso perché non abbiamo tutte le tipiche distrazioni di YouTube e qui è facile vedere quali siano. per esempio pubblicità, video e poi tutta una serie di commenti che possono essere più o meno opportuni. Quindi, riassumendo, i siti che abbiamo visto sono Tube Chop, che è più versatile, forse più flessibile, e YouTube Time. Entrambi hanno lo scopo di fornire ai ragazzi un link tagliato, vale a dire una parte di video di YouTube non intera. Questi consentono anche, ripeto ancora, di essere integrati, il termine tecnico è embed, cioè integrati dentro una pagina. Questo è il tipico caso di un blog, se abbiamo un blog su WordPress, se abbiamo un blog su Blogspot o molti altri. Inserendo questo semplice codice, noi ritroveremo nella nostra risorsa, che ripeto può essere un blog di vario tipo, il video esattamente tagliato, quindi non il video integrale.